Ciao ragazzi, sono Andrea Ci rieganciamo al discorso del video dell'altra volta Continuiamo il nostro discorso sulle batterie opera Batterie opera che sapete ormai è un nostro brand L'altra volta abbiamo illustrato l'entry level Oggi saltiamo su un gradino superiore Quindi vi presento un prodotto in betulla Configurazione 22 cassa, 10, 12, 16 i tom Rullante 14, classico Hardware a doppia piattina, quindi un livello superiore Rims sui tom, quindi un livello superiore Hardware in una fattura decisamente diversa dal modello entry level che abbiamo illustrato l'altra volta Vi dicevo, batterie, le differenze sono che questo è un cilindro in betulla Quindi una fascia già che si avvicina più a un semiprofessionale Abbiamo creato per voi una bellissima iniziativa Visto che ci sono rimasti pochissimi pezzi disponibili Una sorta di pacchetto di bundle, chiamiamolo come meglio volete Dove abbiamo inserito una configurazione di shell kit come vi ho proposto In tre diverse colorazioni Quindi abbiamo questo rosso esposto Vi faccio vedere un bellissimo blu elettrico Quindi anche questa configurazione, questa colorazione E un classico nero Che vabbè, non ho a disposizione ma il nero è nero, lo sapete È comunque un nero lucido Abbiamo abbinato un set di piatti Piest 101 Quindi andiamo ancora a incrementare il valore dello strumento Quindi Crash da 16, Rai da 20, Hayat 14 Voi vi chiederete Va benissimo Sappiamo quanto costano i Piest 101 Molto bene Noi abbiamo fatto questo pacchetto per voi E scegliete voi il colore, ricordatevelo A 490 euro Quindi avete batteria, più set di piatti Hardware, sgabello Tutto quello che vi serve A 490 euro Il suono Il suono è sempre quello bello ciccio Un bello grasso, un bello cicciotto Un po' più di Collins alla fine No Bello L'antesuona Tutto bene Avete a 490 euro Lo strumento giusto Per divertirvi E per divertire Ragazzi vi aspetto alla prossima Ciao